Grazie, grazie CEL, grazie direttori, CIFLA, gli organizzatori, vi ho dato la possibilità di presentare l'attività del nostro gruppo di ricerca, in particolare presenterò la verità riguardante la cattura di anidride carbonica, partendo da questa vignetta pubblicata dal Financial Times e dal titolo che dice, insomma, questa cattura del carbonio è il miracolo per risolvere i problemi delle emissioni di gas serra oppure sono stati spesi tanti soldi e alla fine si è ottenuto poco. Questo è vero, diciamo, molte aspettative sono state deluse, ma è anche vero che in questo articolo del 2015 ci sono successe diverse cose e in particolare gli organismi internazionali hanno cominciato a sottolineare l'importanza di questa tecnologia di carbon dioxide removal, qui solo alcuni esempi dall'IPCC, la Commissione Europea, eccetera. Quindi è una tecnologia che va messa nel cassetto degli attrezzi per risolvere i problemi del cambiamento climatico. La tecnologia più utilizzata è quella del cosiddetto amino scrubbing in cui si usa un'ammina a basso peso molecolare in un liquido, tipicamente l'acqua. L'ammina reagisce con l'anidride carbonica dei gas effluenti, ad esempio da un cementificio, quindi viene intrappolata, poi il solvente con il diostido di carbonio legato alla mina passa in un altro reattore, cambiano le condizioni e queste condizioni favoriscono il rilascio della CO2 che viene quindi canalata nei flussi di interesse, stoccaggio, utilizzazione, trasporto, eccetera. La mina rigenerata può partecipare a un altro ciclo. Questa tecnica è una tecnica matura anche perché non è molto nuova. Vedete nel riquadro in alto a destra l'impianto, diciamo uno schema di un impianto del 1930. Ha però diversi problemi, in particolare il costo, molto elevato. Un altro problema è la perdita della mina, perché è una mina a basso peso molecolare, volatile. Quindi il passaggio successivo può essere quello, ok, utilizziamo mine ad alto peso molecolare. In questa categoria sono molto interessanti le polietileni mine, perché come vedete dalla struttura chimica contengono tanto azoto, un atomo di azoto ogni due attimi di carbonio. Queste PEI, abbriviamo le PEI, sono dei prodotti commerciali, quindi vengono utilizzati in tantissime applicazioni. Ne vedete alcune, nel trattamento delle acque, le possono trovare anche nei prodotti di casa. E sono state utilizzate anche proprio per la cattura di CO2, dove? Nella navetta spaziale, nello space shuttle, che è andata a sostituire quello che si utilizzava prima, che era idrossido di litio, che aveva il problema di non essere rigenerabile. Solo che anziché utilizzare la polietiline pura in questi sistemi, veniva utilizzata la polietiline in mina, diciamo, insieme a una matrice solida. Sono state così poi, a partire dal 2000, sviluppate degli adsorbenti per il diossido di carbonio, in cui la polietiline in mina era, in cui si utilizzava una silice ad alta porosità tipicamente mesoporosa, in cui la, che veniva impregnata con queste polietiline in mina. Questi sistemi sono stati molto studiati, però c'erano un po', ci sono state poche pubblicazioni in cui, diciamo, questo adsorbente si utilizzava in cicli ripetuti di adsorbimento e rigenerazione. E' uno studio recente del 2021, ha fatto un esperimento importante con 100 kg di questa silica PEI, vediamo questo nome, per 150 ore, con un sistema che vedete nel riquadro, un po' complicato, ma in pratica ripete un po' quello che è l'amine scrubber. Solo anche anziché essi insulventi c'è una fase solida, con tutti, diciamo, i vantaggi che ne possono derivare. Cioè, ovviamente, bisogna fare un salto ulteriore per arrivare a una commercializzazione. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di, da un lato, caratterizzare questi adsorbenti, dopo che erano stati utilizzati in questo ciclo, e poi di partecipare con, questo è stato in particolare sviluppato dalla Università di Nottingham, a partecipare a un progetto internazionale dell'acronimo ABSALT, Accelerating Basic Solid Assorbent Looping Technology, in cui si vuole appunto verificare l'applicabilità di questa tecnologia. Gli obiettivi sono abbastanza ambiziosi, sono riassunti lì nel riquadro, nella vostra sinistra, non se è la vostra destra, quindi massimizzare la capacità di assorbimento della CO2, abbassare i costi, e quindi diventare competitiva col processo tradizionale, e ridurre anche l'energia di rigenerazione dell'adsorbente. Il progetto è un progetto che fa parte dell'Accelerating CCS Technology, su un'Eranet, e questo studio, dice il professor Collin, In this study will enable us to extensively investigate an alternative that is showing considerable promise. Ovviamente che lo dice, è coordinatore del progetto, quindi ci potrebbe essere un certo bias, però i risultati sono veramente promettenti. Questo è lo schema del progetto, i partners e, diciamo, work packages. Il primo, come partner più qui silice, ci sono due grandi industrie, una che produce la silice e l'altra che produce le pay, quindi la prima è la più key corporation, la seconda è invece nel secondo work package, che è la basfa, che sintetizza le pay, e le sintetizza, insomma, anche modificando il modo di raggiungere gli obiettivi richiesti. Poi queste due componenti, nel work package 3, sono unite per formare l'adsorbente, questo, diciamo, coordinato dall'Università di Nottingham. Il passaggio successivo, che si sta facendo appunto in questo ultimo periodo, è testare il sistema, proprio un impianto pilota nella Corea del Sud, ovviamente c'è poi tutta l'analisi tecnoeconomica della sostenibilità. Noi siamo qui, come l'Università di Bologna, insieme al pay research della Grecia, in questo, diciamo, cerchietto verde tratteggiato, il work package che riguarda la valorizzazione di questi adsorbenti dal lato, ricavare di nuovo la silice, parliamo di adsorbenti ovviamente che non funzionano più tanto bene perché hanno fatto tanti cicli, rigenerare la silice per impregnarla con fresca pay e nel suo tempo riuscire a valorizzare la pay, anziché semplicemente smaltirla. Perché questi adsorbenti, come si vede alla figura, col tempo si rovinano, si degradano, la pay tende ad assidarsi, vedete l'assorbente originale bianco, già solo il colore vi dà l'idea di processi di degradazione. Abbiamo tentato quella che potrebbe essere l'operazione più semplice, ok, estriamo con un sorvente la pay, abbiamo la silice pulita, la pay vediamo un po' cosa possiamo farci. L'operazione però non ha avuto grande successo perché i recuperi sono stati relativamente bassi, cioè a parte la pay non vuole lasciare la silice, è difficile da estrarre. Il sistema comunque, vedete anche se è migliorata, lo si vede dalla foto, il sistema comunque è utile per caratterizzare la pay e definire e capire quali sono i processi che la portano alla degradazione. Sono coinvolte ad esempio la formazione di gruppi come l'urea, altri, soprattutto questo, che tendono poi a formare delle reticolazioni e rendere non più efficace la reazione con l'anidride carbonica. Abbiamo provato quindi, che in realtà poi era l'obiettivo principale di questa parte del progetto, la pirolisi. La pirolisi, per chi non la conoscesse, è una pirolisi, è un processo di decomposizione, è un insieme di razioni chimiche che vengono operate sul materiale semplicemente scaldandolo attraverso l'azione del calore. Il materiale è quindi trattato con dei priorizzatori, qui ne vedete due, uno di laboratorio, uno, diciamo, in scala più grande, qui a Ravenna. Viene scaldato il materiale a temperatura tipicamente di 400-600 gradi e si ottengono tre frazioni. Una frazione che non si può condensare, un gas, una frazione condensabile che è un liquido e una frazione solida che è un char, se è solo materiale organico oppure coq, se c'è anche materiale organico e coq, nel caso della silice ovviamente poi ci sarà la silice. Ecco, di particolare interesse la frazione liquida perché presenta spesso dei composti, spesso, può presentare dei composti di interesse. Tutta l'industria chimica è nata, diciamo, nell'Ottocento perché c'era questo liquido di pirolisi, che è il catrambe di carbone, del quale poi hanno ottenuto i coloranti, tutti gli intermedi per coloranti, farmaci e via dicendo. E' quindi una frazione che può essere interessante valorizzare. Prima di passare, c'è tutto il discorso del squelab, quindi noi siamo partiti da piccole quantità, da sistemi di micropirolisi, tipicamente la pirolisi abbinata alla spettrometria di massa, in pratica questi assorbenti, ormai esalti, sono piccole quantità, sono inseriti in un fornetto scaldato a 400, 500, 600 gradi e i prodotti di pirolisi vengono separati e analizzati. Tipicamente si ottiene la figura che vedete lì, che si chiama pirogramma, dove ci sono dei picchi, ogni picco corrisponde ad almeno un composto. Ecco, facendo l'analgia dei picchi si vede che l'olio, cioè che i prodotti di pirolisi sono caratterizzati dalla presenza di pirazine, queste molecole che vedete disegnate qui. Le pirazine sono composte abbastanza interessanti perché sono prodotti da diversi organismi viventi, un po' in tutte, si dà le piante, insetti, funghi e così via. Qui vedete un esempio delle formiche, credo che si chiamano mangiofoglie, le quali producono delle pirazine per comunicare fra di loro, per mandarsi segnali d'allarmi. Le pirazine poi si usano nell'industria alimentare come per migliorare l'aroma, hanno un sapore di affumicato, di tostato, sono infatti presenti nell'aroma del caffè. Vengono aggiunti nei cibi che vengono cotti a microonde, siccome i microondi non riesce a dare temperatura un po' base a questo aroma di tostato, che glielo diamo noi prima, poi il cibo non avrà dei miglioramenti. Probabilmente ci sono altre operazioni anche meno sensoriali, come inibitori della corrosione e così via. Quindi ci siamo focalizzati su questa categoria di composti e quindi si è passato, diciamo, un passato di scala dai milligrammi ai grammi e sono stati ottenuti dagli oli, sia dai nostri partner greci, sia dall'Università di Bologna. Qui vedete il risultato, questa volta è l'analisi diretta dell'olio, abbiamo sviluppato un metodo analitico per determinare le resi di queste pirazine, è molto simile a quello in pirolesi analitica, quindi la pirolesi analitica riesce a minimare il comportamento di quello che sarà poi la pirolesi a scala più alta e quindi conoscere in anticipo la composizione dell'olio. Abbiamo determinato le rese e abbiamo visto come dipendevano dalla temperatura, di vari parametri di pirolesi, non entro nel dettaglio. Quindi, diciamo, arrivo alla parte conclusiva di questa descrizione del progetto, cosa fare nel tempo che rimane, sicuramente dunque migliorare le caratteristiche di questi adsorbenti, veramente sono ottenuti dei risultati molto interessanti, sottoporre questi adsorbenti ai cicli di rigenerazione, condizioni che mimano quelle di un cementificio. Per quel che riguarda noi, prendere l'adsorbente che ha finito il suo ciclo di vita, pirolizzarlo, ottenere un olio, fare un catalytic upgrading per favorire la produzione di pirazine, eventualmente isolarle. Invece quella, la frazione solida che rimane, c'è la pay carbonizzata, un poco per fortuna di pay carbonizzata e la silice. Questa volta il processo che usa è la combustione per eliminare il cocco e ottenere la silice di partenza, che sia caratteristiche simili a quella originale, può essere riutilizzata per, diciamo, migliorare, diciamo, per fare altri cicli, impregnandola con pay fresca. E questo fa parte poi del processo scale up. Ecco, siccome questa è una presentazione anche dei laboratori, dedico un lucido al gruppo di ricerca che si chiama Pirolisi Analitica, appunto dove si tratta di Pirolisi, poi, diciamo, noi entriamo in una disciplina di chimica analitica. L'attività è svolta sia a Ravenna, sia a Rimini, al Tecnopollo di Rimini si fa soprattutto la parte analitica, ad esempio le micropirolisi le usiamo per determinare, per fare l'analisi delle microplastiche. Invece a Ravenna, diciamo, coordinato dal professor Torri, c'è tutta la parte di Pirolisi applicata, soprattutto per la valorizzazione delle biomasse. Ecco, con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.